La donazione di sangue 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 Il mio messaggio è che è un gesto bello da fare Che ti rende gra... Ti aiuta ad andare avanti Ad aiutare le persone E siccome è la prima volta Spero di uscire qui Contento di aver fatto questa bella cosa Invito tutti i giovani a farlo E che più ne siamo è meglio è Abbiamo tutti le possibilità di farlo Chi fa una vita regolare Una vita troppo frenetica Donare sangue fa bene E aiuta il prossimo Tra i volontari presenti Anche il vicepresidente Mimmo Russo Come nasce l'iniziativa di oggi? Nasce soprattutto dall'impegno dato dai nostri giovani Che sempre attenti Chiaramente a far sì che possano formarsi donatori nuovi Periodici Si sono chiaramente attivati Invitando un esponente del Campano Della provincia di Napoli A fare da testimonial Perché ne abbiamo bisogno E purtroppo il segmento dei giovani È un segmento che Non è tanto attratto Verso questa Insomma verso la donazione in generale E speriamo che con questo gesto Usufruendo e avvalendoci di questo ragazzo Possiamo sensibilizzare sempre più giovani E portarne sempre di più Ai centri trasfusionali Perché il dono è importantissimo E di questo ne abbiamo tanto bisogno Insomma ed è evidente a tutti Perché i richiami alla donazione Al fatto che siamo sempre in emergenza In questa regione Purtroppo è oramai un fatto quotidiano E questo chiaramente se ne dispiace Dottor Nocera Dirigente del servizio trasfusionale Del San Giovanni Bosco di Napoli Quante sono importanti iniziative del genere E l'importanza anche di avere più donatori La risposta è ovvia Iniziative del genere sono importanti E mi preme dire che il servizio trasfusionale Del San Giovanni Bosco Da sempre ha dato spazio Alle associazioni di donatori Perché noi riteniamo che il dono del sangue Volontario non remunerato Vada bene Ma che sia fondamentale Il dono associato I donatori che vengono continuamente Sono controllati Sono sicuramente i donatori più sicuri Inoltre Quei principi di solidarietà Che sono tipici delle associazioni Sono fondamentali Detto questo La legge trasfusionale Dà ampio spazio A iniziative di propaganda Come queste Quindi noi siamo solo onorati Che la FIDAS Abbia voluto scegliere oggi Il nostro centro E che tanti ragazzi Compreso il nostro giovane campione Abbiano deciso di donare qua Sono importantissimi sicuramente La presenza dei volontari Diventa determinante Per i presidi ospedalieri Che devono far fronte Alle difficoltà Di mancanza di donatori Inoltre Si Di mancara Inoltre Che La presenza dei volontari 500 еру Grazie a tutti